40.000 euro in contanti, monili in oro e l'auto parcheggiata nel cortile. E' il bottino con cui si sono dati alla fuga ieri sera i ladri che hanno colpito un'abitazione appena fuori con le dara nella frazione di Ornano. Indagano ora i carabinieri che in attività di pattugliamento in quella zona hanno rilevato subito l'accaduto e si sono messi sulle tracce dei responsabili, riuscendo a ritrovare l'auto vicino al comune di Bellante. I ladri hanno agito indisturbati, hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e dopo essersi arrampicati lungo una grondaia sono riusciti a entrare attraverso una finestra lasciata aperta. Hanno portato via monili in oro e soprattutto l'ingente somma di 40.000 euro in contanti, ossia l'incasso del proprietario che ha un'officina. Non solo, i ladri hanno anche rubato l'opelastra di proprietà dell'uomo parcheggiata nel cortile e l'hanno utilizzata per darsi alla fuga. Appena rientrati, il meccanico e la moglie hanno lanciato l'allarme e hanno contattato i carabinieri che hanno fatto scattare una ricerca a tappeto mettendo in azione diversi equipaggi dei nuclei operativi e radiomobile e delle stazioni territoriali. Proprio grazie a questa fitta caccia all'uomo, i militari sono riusciti a ritrovare l'auto rubata che i ladri, sentiti si braccati, hanno abbandonato a Bellante. Ora sono in corso sull'autovettura rinvenuta tutti i rilievi tecnici per individuare impronte ed altri elementi utili per il prosieguo delle indagini al fine di identificare i ladri. Grazie.